L'acca Montella fa un grosso passo in avanti in ottica playoff. Le gialloblu di Albanese sconvigono Cutrofeano e mettono un nuovo mattone per il secondo posto. Infatti la vittoria ai danni delle Recesi permette di eliminare una diretta avversaria per gli spareggi. Adesso, a quattro giornate dal termine, l'obiettivo è quello di conservare la posizione. Attualmente la piazza di prestigio alle spalle della capolista Marsala è in condominio con Arzano e Santa Teresa. Quinto successo di figlia, il decimo nelle ultime 12 partite per l'acca Montella. Un ruolino di marcia di tutto rispetto per le ragazze di Coccia Albanese che alzano la voce. Vogliono prendersi la scena da avere prime donne e ci stanno riuscendo. Sugli scudi Mauriello, Boccia e Montenegro che hanno disputato una gara importante. Una prova da incorniciare la loro. La prossima sfida, sabato 16 aprile in trasferto contro il MAM Vole Santa Teresa, dove servirà un'altra grande partita per continuare la marcia versi Plof. L'incontro contro le Messinesi a questo punto diventa fondamentale. Infatti i punti del match contro le Siciane potrebbero valere doppio e dare praticamente la seconda posizione nelle mani dell'acca.